Oggi, 8 luglio, vi porto con me in Francia. Andremo a Notre-Dame-Trouet di La Voutes-Chillac. L'8 luglio 1496, due bimbe giocavano in riva all'Aliere, strofinando ciottoli di quarzo bianco. Da quello di Marguerite Romethe si staccò un frammento di 13 mm, dipinto in azzurro e oro, raffigurante una donna col bambino sul braccio sinistro, una stella sul petto e cinque gigli sulla veste. Un soldato lo portò al suo capitano, che lo consegnò al priolato benedettino di Santa Croix, dove fu posto su un altare. Diciotto giorni dopo iniziarono i miracoli. Nel 1889 una statua-ligna di Nostra Signora del Ponte fu trasferita in Santa Croix per accogliere come una preziosa cornice l'icona. La statua-reliquiario ancora oggi viene portata in processione la prima domenica di luglio, accanto alla Madonna del Ponte.